Lei aveva parlato di una situazione non semplice per quanto riguarda le casse comunali del comune di Pescara, della situazione di bilancio ad oggi, ad un mese e mezzo di distanza, qual è la situazione? La situazione è sempre la stessa, nel senso che abbiamo chiuso questo giro di bo al 31 luglio, facendo quadrare i conti, congelando molte di quelle che sono le spese che sono state richieste dagli uffici, perché, ahimè, a luglio abbiamo ereditato un bilancio che aveva già impegnato 66 milioni di euro di spesa e se facciamo il raffronto al 2017, che è l'anno non preelettorale rispetto al 2018, era 87 milioni, quindi a 87, a 66, ovviamente circa 20 milioni, da qui alla fine dell'anno, se pensiamo che dobbiamo pagare gli stipendi, se dobbiamo pagare altri contratti, utenze e quant'altro, ovviamente ci rimane ben poco di attività politica nella scelta. Poi tutte le spese folli che sono state fatte, il mercatino etnico, l'icona di queste spese folli che è stata fatta dall'amministrazione, ricadono non sull'amministrazione di Carlo Masci, né sulle spalle di Eugenio Seccia, ma non soltanto, perlomeno, ma su tutta la città di Pescara. Da qui al 31 dicembre, conti e numeri alla mano, che cosa accadrà? Accadrà che siamo con i programmi che abbiamo, possiamo fare delle variazioni di bilancio permutative, vale a dire possiamo spostare da una spesa che magari non è stata spesa per intero, oppure che non intendiamo farla più, su un'altra spesa, su un'altra esigenza. Abbiamo un fondo di riserva di 120 mila euro, che non è il massimo, perché era 460 all'inizio dell'anno, l'abbiamo già trovato a 170 mila euro quando siamo entrati, lo teniamo da parte eventualmente per le spese impellenti e urgenti e ovviamente una parte destinata a eventuali emergenze, tra l'altro sono anche assessore alla protezione civile, per cui riguardo a nevicate, eventi speriamo che ovviamente non ci siano, ovvero non ci siano più devastanti di quelle che sono state in passato, oppure piogge torrenziali e quant'altro, quindi lasceremo sicuramente una parte a disposizione per le emergenze.